È giusto per dare un'altra informazione che nessuno vi darà relativa alla denuncia che io presentai nei confronti della Presidente di Banca Centrale per calunnia nei miei confronti e che è stata archiviata in maniera decisamente inopportuna, io credo, oltre che forse un po' goffa da parte del Commissario che se ne è occupato in prima istanza. È stato presentato un robusto ricorso che contiene documentazione sensibile, documentazione che tira in ballo le istituzioni che da sempre, vi dico, sono già informate sui fatti. Per cui io credo che i sanmarinesi a questo punto debbano chiedersi fino a che punto questi insabbiamenti operati anche da personaggi operanti in tribunale e da parte di chi sostanzialmente detiene tutti gli euro di San Marino, tant'è che adesso che non gliene danno più gli dai titani, bisognerebbe forse fare qualche cosina, un'azione legale, vedete voi.